Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte, Questa mattina, visto che non abbiamo ricevuto inviti, o meglio, l'appuntamento con gli amici per la montagna è saltato, ho deciso di provare a andare a pescare in un posto a me molto caro, in realtà non ci ho mai pescato, perché, ahimè, rientrante nella zona del parco, ma adesso le cose sono cambiate, praticamente nella zona del parco c'è una nuova determina del parco, a quale io ho scritto, proprio per avere sicurezze, e hanno avuto anche il presidente Tommaso Navarra, ha avuto anche la gentilezza di rispondermi personalmente, e praticamente mi hanno confermato che la determina, così come si capisce, perché non è che non si capisse, però volevo essere proprio sicuro, la determina prevede che nelle acque ricadenti all'interno del parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga, la pesca possa essere praticata, perché si pratichi una pesca no kill, pesca no kill con un solo amo, che siano cucchiaini, che siano arbeids, che sia qualsiasi cosa, l'amo deve essere singolo e senza ardiglione. Quindi oggi, finalmente vado a scoprire i posti che fino ad ora mi sono stati negati perché è appunto ricadenti all'interno di questo benedetto parco. Io sono per la salvaguardia della natura, ma sono anche per rendere la natura fruibile, con regole certe e regole che possano essere fatte rispettare, perché poi se capita lo sveltarello che il pesce se lo riporta, allora quello va punito, ma amaramente, secondo me. Quindi vado, ho mandato un messaggio a mio fratello, vediamo un po' se 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 la sente, ma non credo che mi raggiungerà. Comunque, sarà per l'ustrazione breve, perché vedrò un attimo fino a che punto ci si può spingere, non nemmeno tanto bene a mente i posti, quindi è una prima uscita di perlustrazione. Se poi ci esce una trotarella, mi metto a piangere. A mezz'ora dovremmo arrivare a destinazione, quindi abbiate pazienza, ma soprattutto io devo avere pazienza, perché il mare trema lì male, ma dopo. Eccoci che siamo quasi giunti alla metà coniata, sono veramente curioso di sapere se ci resta qualche trota. mi piace questa esplorazione. Dei ricordi, diciamo, da ragazzo, e in più delle storie che mi raccontava mio zio Immo, che andava a pescare e ci riportava ogni tanto le trovate nel salinello, buonissime, me ne ricordo. Forse anche grazie a lui che la passione è la pesca e questo canale esiste, quindi un saluto a zio Mimmo che so che mi segue. E adesso vediamo un po' di fare qualcosina, c'è una frega di gente. Adesso ci sarà un po' da camminare per arrivare proprio al greto del fiume. Ma la giornata è bellissima, fa caldo, mi sono portato il giubbino, ma trobitamente non serviva. Fammi assicurare che... Avevo semplicemente scordato... E' artificiale. La cosetta da poco. Puzza fa bubbo. Pettacolo. Molto. Speriamo che questi due ragazzi non decidano di farsi il bagno. Allora, sabato è un giorno sbagliato. Già l'ho capito. Il fiume, ragazzi, ci siamo. Le belle buche. C'è stato qualche problema alla GoPro per cui praticamente non ho ripreso quello che è successo al primo lancio. Una trota bellissima. Ma non l'ho manco fotografata perché... Ditto tanto dopo. Figurati. Va bene. Importante che l'emozione ci sia stata. Ma era veramente una trottarella fantastica. Vediamo di prenderne altre. Adesso cerco di andare giù. E spingermi... Più in giù che posso. E poi... Me lo rifaccio a risalire che... Che dovrebbe essere... Un po' meglio. Solo che stiamo... Infrascati a certi livelli eh. Vediamo se qua... Questa strada... Chino. Un slot di più piccolo. Ancini. Un slot di più piccolo. Un slot di più piccolo. Un slot di più piccolo. posto stupendo ragazzi però abbastanza impervio vabbè chiaramente lo devo conoscere o intanto ho inciampato quindi cerchiamo di non perdere artificiali anche qui che vi stiamo asseminando in tutta l'Abruz a vedere qui sembra un acquario inizia 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 inizio il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, erano rimasti e sono arrivati a questa bella briglia. Da qui partiamo a risalire, intanto ci riesco a brigliare. Grazie a tutti. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo stanno ben rintanate. Grazie a tutti. 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 delle persone abbia sperimentato i pesci è una teoria più che valida. Mi riprometto di assolutamente ripornarci come già detto e fare un nuovo video, magari farvi vedere qualche bella libro di qualche fariotta mostrama che non è tanto comune vedere ultimamente. Grazie a tutti. Allora raga non avremmo pescato un granché ma chi cazzo lo racconti? Che finalmente dopo 56 anni posso pescare nel mio fiume. Grazie a tutti. Sì, ci siamo fatti un bel mazzo. Dopo vediamo quanti chilometri ho fatto. Ma l'ho fatta parecchia in strada. Pure un discreto dislivello. Vabbè, ne valso la pena perché veramente è bellissimo. queste stupende grotte. Noi. 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 Noi.